Come riusciamo oggi nell'immediato ad aiutare il raccoglimento di una tregua e poi a riprendere un minimo di prospetti in banca di una soluzione stabile del problema? Un conflitto di questa portata non si risolve uccidendo un certo numero di dirigenti e di militanti. Io ritengo in generale che l'idea di risolvere i problemi politici attraverso l'uso esclusivo della forza che sostituisce la politica è un errore. Israele ha già eliminato un intero gruppo dirigente di Hamas attraverso la politica degli assassini mirati, a cominciare dal fondatore del movimento. Il risultato di questa prima fase è stato che Hamas ha vinto le elezioni e si è rafforzato. non si è indebolito, ha trovato un altro gruppo dirigente. Nella logica di un movimento fondamentalista il martirio è alimento delle sue ragioni.